Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TRMH24, la cronaca in apertura nell'eccese un giovane morto nel giorno del suo compleanno assumendo la droga della risata. Vediamo. È morto per strada ad Alessano nel Capodileuca in via Giudecca un 26enne che festeggiava il compleanno con amici ieri sera. Il gruppo pare stesse assumendo i cosiddetti balloons, palloncini pieni di ossido di azoto, per provare euforia, la cosiddetta droga della risata. Quel gas però può causare la paralisi del sistema nervoso e l'arresto cardiocircolatorio. E infatti il 26enne Pierpaolo Morciano, un giovane del luogo, avrebbe accusato un malore per aver inispirato quel gas. Inutile il soccorso prestato dai sanitari del 118. Lo sballo dunque sarebbe costato carissimo. La salma del 26enne, su disposizione del magistrato Luigi Mastroniani, è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi a Lecce perché si chiarisca la causa del decesso. L'autopsia, che sarà eseguita dopodomani dal dottor Ermene Gildo Colosimo, servirà a verificare se alla morte del giovane abbia contribuito qualche patologia. Sull'accaduto, indagano i carabinieri. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tre ragazzi accusati di aver ucciso un clochard a Bari. Hanno deciso di non rispondere e rimanere in silenzio i tre ragazzi arrestati con l'accusa di aver ucciso lo scorso 31 maggio alla periferia di Bari, nel quartiere Ceglie del Campo, un cittadino di nazionalità indiana. Davanti al GIP Giuseppe Ronzino, infatti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Accusati dell'omicidio sono il 21enne Paolo Natale Guglielmini, un 18enne minorenne all'epoca dei fatti e infine un 17enne. Tutti e tre sono finiti in carcere e con loro sono indagati a piede libero tre 21enni che li avrebbero aiutati a fuggire dopo l'omicidio. Intanto la Procura ha disposto una consulenza tecnica per effettuare la copia forense del contenuto dei telefonini degli indagati. I tre rispondono dell'accusa di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa della vittima. Stando alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il cittadino indiano sarebbe stato sparato soltanto perché i ragazzi avrebbero avuto intenzione di testare il funzionamento della pistola su un bersaglio umano. Il 20 novembre intanto il consulente della Procura Davide Carnevale riceverà l'incarico per svolgere gli accertamenti tecnici irripetibili sui cellulari sequestrati ai propri ragazzi, nonché ai tre 21enni indagati a piede libero. La sanità secondo Agenas, i centri senologici pugliesi garantiscono ottimi livelli di assistenza e la regione nei primi mesi del 2025 aggiornerà il PDTA, il percorso assistenziale per il tumore della mammella. Breast Unit Pugliesi promosse. L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha certificato l'alto livello qualitativo dell'assistenza offerta in Puglia dagli 11 centri specializzati nella diagnosi e cura del tumore al seno. La diagnosi precoce e le terapie innovative hanno consentito di far scendere il numero di decessi per questo tipo di tumori. Sono innovazioni fondamentali che migliorano la qualità di vita delle donne attraverso anche l'anticipazione diagnostica e attraverso anche chirurgie meno aggressive. La strada da percorrere è quella di implementare le innovazioni di cui disponiamo all'interno di un meccanismo, di un sistema unico. Qual è il problema? Che queste innovazioni procedono ad una velocità tale da superare anche la velocità dei meccanismi, dei sistemi di adattamento, di implementazione. Quindi è necessario creare una collaborazione stretta fra tutti gli stakeholder che tenga conto della necessità di creare nuovi modelli di governance che favoriscano l'implementazione all'interno del sistema di queste innovazioni. A inizio del prossimo anno la Regione Puglia aggiornerà il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per il tumore della mammella. I principi sono sicuramente quelli della condivisione, della presa in carico di ogni singolo paziente da parte di un team multidisciplinare che non è soltanto a livello aziendale, è organizzato proprio su base trasversale e anche sovraterritoriale. Il PDTA serve proprio a garantire una presa in carico addirittura preventiva con una diagnosi precoce che è poi il segreto del successo di qualsiasi terapia, non soltanto farmacologica ma anche chirurgica. Voltiamo pagina al Via Matera-Ruzzin, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini. Ruzzin, la Borsa del Turismo delle Origini, la terza edizione, prende il Via Matera 18 e 19 di novembre nell'anno dedicato a questo tipo di turismo in un rapporto speciale tra il turismo delle origini e il Made in Italy. Noi stiamo costruendo un palinsesto di temi che siano a servizio del territorio e degli operatori e trattare il turismo delle radici che è un segmento del turismo, per noi uno strumento per potenziare la nostra offerta e farla conoscere ai mercati internazionali. Quindi in questi due giorni avremo tantissimi approfondimenti che andranno dai temi del turismo, dell'intelligenza artificiale applicata al turismo, al turismo delle passioni che è un'invenzione coniata da noi della Basilicata a tematiche di varia natura. Il momento è importante perché ci troviamo anche nell'occasione di poter fare il punto del progetto Italia del Ministero degli Esteri sul turismo delle radici con il ministero qui presente. Abbiamo creduto sin dal principio, sia su tutta la tematica del turismo delle radici, il turismo del ritorno, ma soprattutto siamo stati vicini a questa iniziativa qui in Basilicata, qui a Matera, veramente pionieristica ma che è diventata una realtà consolidata. Al terzo anno consecutivo ne siamo particolarmente orgogliosi. È l'anno del turismo delle origini, questa è la terza edizione di una iniziativa che vuole mettere al centro il turismo delle origini. La Basilicata è un modello nazionale? Certo, è un modello nazionale, mi fa molto piacere perché la prima volta che si è fatta, lei ha detto che è la terza edizione, la prima è stata una scommessa, è una scommessa vinta perché poi c'è stata una seconda edizione e ora siamo alla terza. Questo che cosa significa? Che si è investito in un settore particolarmente attrattivo, proprio il turismo delle radici. Artisti e cantanti nella Caverna delle Grave con Natale nelle Grotte. Pupo, Carlo Amleto, Rossana Casale, Mario Rosina e Francesco De Gregori sono i nomi degli artisti che arricchiranno il Natale di Castellana Grotte. Torna infatti Natale nelle Grotte, l'iniziativa che porterà nel mese di dicembre nella Caverna della Grave appuntamenti imperdibili e concerti di qualità eccezionale con una chiusura speciale il 19 dicembre affidata a Francesco De Gregori. Abbiamo scelto, pur mantenendo una fascia di età un po' più alta rispetto a quello che normalmente facciamo in estate, che prendiamo una fascia anche dei ragazzini, scegliamo gli artisti che abbracciano diversi gusti, culture e varie. L'iniziativa, presentata in conferenza stampa, si inserisce nell'ambito di Piazza d'Inverno 2024, il ricco programma di eventi invernali pensato per tutti e tutte, promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana SRL. Stando per la prima volta siamo particolarmente fieri, perché nel corso dell'estate ci sono arrivate delle richieste, a noi sembravano veramente quasi prese in giro, di artisti che hanno voluto loro presentarsi e chiederci addirittura la possibilità di esibirsi in grave. Due mesi di grandi eventi a partire dal primo dicembre per vivere nel modo migliore le piazze e i luoghi più suggestivi della città, in attesa dei giorni del fuoco, ma soprattutto per vivere l'atmosfera che si crea nello scenario mozzafiato della cavità carsica. Piazza d'Istate e Piazza d'Inverno con eventi che riguarderanno la grave delle grotte di Castellana, con tre concerti, devo dire, di assoluto livello. Poi ci saranno i cori gospel all'interno di una chiesa di Castellana Grotte, ci saranno eventi per bambini e ovviamente Aborigine, che è la rievocazione storica della peste che riproponiamo a gennaio, perché ricordo il nostro Natale finisce il 12 gennaio dopo le Fanove. Abbiamo incentrato il nostro Natale sulla parte illuminotecnica, quindi abbiamo aumentato le strade che saranno illuminate. vogliamo ricreare con la magia del Natale che possa aiutare tutti i bimbi e le famiglie a passare un sereno Natale. Ora andiamo a Potenza con il Festival Visioni Verticali. Questa edizione, diciamo, dall'inizio rifletta sulle sfide del nostro tempo attraverso la lente del cinema e delle altre arti e da sempre l'intento di visioni verticali. Quest'anno abbiamo potuto dedicare la stessa edizione alle nuove generazioni, quindi per raccontare le sfide, i sogni, le speranze dei giovani, registi emergenti, nuovi talenti. Raccontare quindi ventenni, trentenni, la generazione precaria in cerca di identità, di un migliore rapporto vita-lavoro, che però è determinata a ritagliarsi il proprio spazio, spesso sovvertendo tutti i codici. Riceviamo cortometraggi da tutto il mondo, quest'anno abbiamo ricevuto oltre 200 opere. Come sempre abbiamo il contesto di cortometraggi internazionali, lungometraggi indipendenti, opere generate con l'intelligenza artificiale, workshop con professionisti del settore. Nelle tre serate ospiteremo Svevo Moltrasio, Giuseppe Marco Albano presenterà il suo docufilm sui cento anni del Corriere dello Sport, Antonino Giannotta presenterà il suo primo film da regista che si chiama 3,40 euro, è una commedia amara su una generazione precaria. Abbiamo deciso di dedicare interamente la stessa edizione di visioni verticali ai giovani, perché appunto Potenza quest'anno è capitale dei giovani 2024, quindi abbiamo dato spazio alle giovani realtà. Abbiamo aperto dei laboratori quest'anno alle scuole di sceneggiatura per poter dare un orientamento scolastico sui mestieri del cinema. Iniziamo con la sceneggiatura e durante l'anno ci promettiamo di organizzare altri corsi e laboratori sui mestieri del cinema. Credo che crei le condizioni perché ci sia per questa comunità una prospettiva. Il cinema come prospettiva di vita, il cinema come crescita culturale di una comunità, il cinema anche come crescita economica. che fa parte del dossier di candidatura di Potenza Città Italiana dei Giovani. Siamo nel trimestre un po' della restituzione, della legacy da un lato e dall'altro di parlare di futuro. E come può essere strumento migliore quello del cinema, dell'audiovisivo, storie bellissime e far sognare un po' le giovani generazioni insieme a loro verso una nuova logica sulle politiche attive del lavoro e sulle politiche giovanili in regione. Tutto pronto per il Matera Sport Film Festival. Un evento unico che unisce sport, cultura e impegno sociale attraverso il linguaggio cinematografico. Dal 21 al 23 novembre 2024 la città di Matera ospiterà la quattordicesima edizione del Matera Sport Film Festival. Il festival si pone l'obiettivo di avvicinare il pubblico, in particolare i giovani, alle storie di resilienza e inclusione che caratterizzano il mondo dello sport. Per tre giorni le principali sedi culturali di Matera saranno animate da proiezioni, dibattiti, spettacoli e incontri con protagonisti e ospiti di prestigio nazionali e internazionali. Siamo veramente soddisfatti anche di questa edizione numero 14 che dà un segnale anche di continuità ma soprattutto anche di crescita costante. Una vera manifestazione che mette coniuga sport, cultura e anche impegno sociale e che mette in evidenza il territorio a confronto con produzioni nazionali e internazionali. Quante le opere verrà questa edizione? Abbiamo avuto un'iscrizione al concorso di quasi 160 opere. La selezione è stata una selezione difficile. Ringrazio la giuria, il presidente di giuria Carlo Paris, per il lavoro che hanno svolto. Proietteremo in città una quindicina di queste opere, in più sedi tra il piccolo e il guerrieri, e soprattutto coinvolgendo la parte giovanile della popolazione, ma tutta la città con alcuni particolari accorgimenti su quelli che sono i temi specifici del festival. È un bellissimo evento che mette insieme tutte le pratiche sportive, insieme all'arte cinematografica. È un evento che a livello culturale può dare tanto e già da tanto alla nostra città e alla nostra regione. E soprattutto, ma è come in questo momento, dove vicino a noi ci sono delle guerre cruete, noi dovremmo imparare di più dallo sport. Dobbiamo imparare i propri valori reali dello sport, che sono quello del rispetto, del saper stare insieme, dell'integrazione e di tutte le cose belle che lo sport dà. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.